Siamo in compagnia con Maria Elisa Zoccarato, 90 Leopoldo, un progetto fotografico molto interessante, una partecipazione importante, quella al risveglio dell'arte, questa mostra che quest'anno annovera oltre che la pittura e la scultura anche la fotografia. Da dove nasce questa ispirazione fotografica ma soprattutto l'interesse di partecipare a Limena? Il progetto che presento qui a Limena, Essere Impuri, nasce da una collaborazione che ho sviluppato con Maria Elisa Zoccarato e la scrittrice Claudia Paoletti. Quelle che presento oggi oltre all'opera qui in concorso sono un'anteprima del lavoro completo che consta di 20 fotografie. È nata dal desiderio di entrambi, io dal punto di vista fotografico, Maria Elisa dal punto di vista pittorico, di interpretare il significato che ha il termine puro e impuro. Questo personalmente l'ho fatto utilizzando delle luci e degli angoli particolari, delle modelle che hanno voluto con i loro sguardi, con i loro vestiti, talvolta provocanti, interpretare questo significato. Quindi se vogliamo interpretare la positività e la negatività in questi elementi. Siamo partiti appunto dal concetto che puro e impuro hanno due significati diversi, per poi però provare a spiegare che il puro può diventare impuro e questo può trarre dal primo forza per essere impuro. Bene, Maria Elisa. Sì, allora questo lavoro, come dici tu, non ha una valenza o vuole sottolineare una cosa negativa, assolutamente, ma si vuole sottolineare che la purezza che noi siamo abituati a conoscere attraverso le persone, le immagini sacre, non è quella che volevamo rendere. Noi abbiamo preso come esempio la Madonna come purezza, ma l'abbiamo voluta trasportare in campo terreno, renderla più umana, più attaccata anche alle cose, insidiata dalle cose umane, a cui noi ci teniamo come la bellezza, il vestito, il gioiello, la tentazione e questi soggetti ci hanno ispirato per una visione nuova, un puro che può diventare impuro, ma il confine effettivamente dove sta. È così sottile. È un processo artistico molto interessante e soprattutto inusuale perché nasce poi dal frutto di più persone da questo punto di vista maggiormente interessante. Prima di lasciare le immagini, di lasciarci, quindi lasciare le immagini alle vostre fotografie, un pensiero su questa mostra, un pensiero su questa vostra iscrizione e sul fatto che auspicchiamo di potervi rivedere anche l'anno prossimo. Grazie, infatti ho preso al volo questa occasione avendo avuto alcune recensioni di pittori che hanno partecipato alle scorse edizioni. Sono contento che anche se siamo in netta minoranza ci sono parecchi fotografi e quindi è una bella manifestazione, sono contento, c'è bel pubblico. Spero appunto di partecipare anche l'anno prossimo con un nuovo lavoro. E noi vi aspettiamo. Grazie ancora. Grazie.